Ciao e bentornato in questa nuova lezione in cui andremo a parlare di quello che abbiamo visto fino adesso e se non dovessi riuscire a configurare il tuo shop online c'è sempre una soluzione quindi, allora noi abbiamo visto che possiamo creare uno shop su IG da zero ok, attraverso Facebook oppure andare a configurare il tuo sito con un catalogo prodotti quindi, come l'abbiamo fatto? l'abbiamo fatto attraverso il pixelino qui, il codice ok? ma, se non si dovesse riuscire a configurare sia lo shop partendo da zero che il sito web che l'e-commerce quindi se Instagram dovesse dirti guarda, non hai le credenziali apposite per riuscire a pubblicare uno store cosa che ultimamente può succedere perché questo entrerà in atto nel 2021 ma noi come riusciamo a configurare qualcosa nel frattempo? come riusciamo ad aumentare le nostre vendite? beh, facile allora, praticamente cosa andremo a fare nella prossima lezione? se Instagram non ci dà l'ok perché vendiamo prodotti digitali potrebbe essere la soluzione cioè, il problema potrebbe essere che vendiamo prodotti nel digitale potrebbe essere perché vendiamo prodotti in termini di poco legali ok? poco legali intendo magari relative al ma anche gli integratori potrebbe non approvarti anche prodotti di network marketing addirittura quindi stai attento ma non è assolutamente un problema indipendentemente da quale sia la problematica se vendiamo digitale se non vendiamo digitale non ce ne frega niente network non network noi intanto iniziamo a sfruttare quello che Instagram ci dà ovvero il link in bio come facciamo? noi andremo adesso a creare nella prossima lezione una smart card ok? in cui all'interno ci saranno link cliccabili che rimanderanno magari al nostro shop ok? qua inseriremo un catalogo prodotti di paypal ok? di paypal fino a 50 ok? paypal possiamo diciamo gestire fino a 50 prodotti poi ti crea quel catalogo dicendo catalogo social e tu puoi inserire il link che ti rilascia paypal direttamente su questa piattaforma che ti consiglierò qui invece potrai mettere il tuo numero di telefono quindi un link con il tuo numero di cellulare ok? qua potresti mettere magari i tuoi riferimenti alla pagina facebook ok? qua il tuo sito per vendere le consulenze o per vendere altre cose andremo a vedere come creare una pagina e da una pagina avere più riferimenti per bypassare quello che è il blocco dei contenuti del catalogo di instagram andiamo a vedere tutto questo nella prossima lezione quindi mi raccomando cerca di prendere carta e penna e ci vediamo alla prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti